La menopausa è un evento biologico estremamente impattante che per fortuna riguarda un numero sempre più ampio di donne perché invecchiamo di più e invecchiamo meglio. Quindi perché pensare a un centro menopausa? È nato dal piacere di lavorare insieme di alcune professioniste, ginecologhe e psicologhe che vogliono in qualche modo condividere questo piacere e questo entusiasmo con donne che hanno le stesse problematiche. E il centro che cosa ci consente? In realtà un metodo, quindi l'individuazione di un sintomo prevalente, l'attivazione di un processo motivazionale, l'impiego di tecniche di aiuto che sono la programmazione neurolinguistica o il coaching e la possibilità di offrire sullo stesso problema più punti di vista. Il tutto in un unico posto, in un tempo contenuto e in una programmazione realistica di miglioramento o addirittura di risoluzione del sintomo. Abbiamo delle cure di tipo ormonale, terapie ormonali sostitutive sistemiche, locali, terapie alternative, terapie naturali, nessuna terapia che forse è la terapia migliore.